Cari amici di Detto Tra Noi, buongiorno, quest'oggi benvenuti dai nostri studi bolognesi, un saluto a tutti voi telespettatori, quest'oggi vi vogliamo parlare di una festa, magari voi non tutti lo sapete, oggi si celebra la festa degli alberi. Ne parliamo con un graditissimo ospite che torna a trovarci, quindi bentornato e bentrovato a Carlo Tovoli dell'Istituto Beni Culturali Regione Emilia Romagna, buongiorno Carlo. Buongiorno e grazie. Allora si celebra oggi, dicevamo, la festa degli alberi, raccontiamo come nasce questa festa, che cosa vuole portare avanti anche come messaggio e da quanti anni c'è, perché è una festa che esiste ben dal 1872, nata negli Stati Uniti, quindi è una festa storica, quasi come gli alberi che tra un po' vedremo. Esatto, diciamo che nasce ufficialmente nel 1872 negli Stati Uniti, in un paese nel nord degli Stati Uniti, nel Nebraska, per un disastro che era successo pochi mesi prima, ma in effetti una grande alluvione aveva distrutto molta parte della vegetazione arbustiva e arborea di quel paese e il governatore dello Stato del Nebraska decise di coinvolgere la cittadinanza in una giornata dedicata al piantare alberi principalmente e inventò l'Arbor Day, il giorno degli alberi. Questa tradizione si è poi estesa anche nelle zone più vicine, come ad esempio nel parco di Yellowstone, quello dell'orso Yogi, tutti ce lo ricordiamo quando eravamo piccoli, perché abbiamo visto i cartoni animati, è una tradizione che arriva ben presto in Italia, del resto la festa degli alberi è una festa antichissima, antichissima, radici nella classicità, basta ricordare le feste lucarie o lucaria, come dicevano i latini, che erano da lucus bosco sacro, erano delle feste che si svolgevano intorno alla metà di luglio all'interno di quelli che erano considerati boschi sacri, quindi c'è una tradizione lunghissima, ovviamente noi abbiamo parlato degli Stati Uniti perché la istituzionalizzano, e arriva in Italia intorno alla fine dell'Ottocento e ha una tradizione che continua fino agli anni 30, 40, 50, poi si interrompe e viene ripresa fino al 2013, quando una legge nazionale istituisce proprio il 21 novembre la giornata nazionale degli alberi, chiedendo soprattutto, grazie al coinvolgimento del Ministero dell'Istruzione, ma non solo, dell'ambiente ovviamente, di far sì che nelle scuole e in altri luoghi vengano piantati alberi, proprio per ricordare questa bella tradizione e per il grande valore simbolico che hanno gli alberi. Per quanto riguarda gli alberi importanti, gli alberi grandi alberi, noi ricordiamo che la Regione Emilia-Romagna ha una legge, una delle più vecchie, delle storiche legge della Regione, che è del 1977, che parla proprio di tutela di alberi monumentali. Ne vediamo in queste foto alcuni esempi. Dagli anni 80 fino alla fine degli anni 90, più o meno, la Regione Emilia-Romagna ne ha tutelati oltre 600, esattamente 646 in tutta la Regione. Un albero monumentale, come dice la parola, è un monumento, è un monumento della natura che diventa bene culturale, non solo per il suo valore naturalistico, paesaggistico, ma anche per il simbolo, per le tradizioni che porta con sé. Ad esempio, ci sono ovviamente alberi monumentali che sono maestosi, grandissimi, come quelli che stiamo vedendo nelle foto, questi sono alcuni esempi di Bologna, ma la Regione è ricchissima di alberi monumentali, che possono avere un valore, come dicevo, sia naturalistico, quindi con chiome imponenti, molto grandi, molto importanti, con circonferenze del tronco notevoli, abbiamo querce, platani, oppure come questo esempio, che è l'acero di Madonna dell'acero. È un albero che ha avuto tantissimi problemi, però l'abbiamo cercato di mantenere in vita, con interventi anche importanti realizzati dal nostro servizio fitosanitario regionale, per il grande valore simbolico che ha, perché è legato ovviamente alla Madonna dell'acero, per chi non la conosce, è vicino al Corno alle scale, a Lizzani in Belvedere, dove, secondo la tradizione, sarebbe apparsa la Madonna, e quindi ha un valore che va ben al di là di quello che è l'albero, che come vedete è monumentale, ma non è maestosissimo, anzi ha sofferto moltissimo nel tempo. Quindi un albero è monumentale per tantissimi motivi, e la legge nazionale, la legge 13, ribadisce un po' il concetto di albero che ha introdotto già la legge regionale, quindi questa legge del 77 che era un po' all'avanguardia. Abbiamo detto che sono circa 646 alberi in totale tutelati dalla Regione. La tutela della Regione è una tutela molto forte, pensate che viene decretata con un decreto del Presidente della Giunta, che fa sì che questo albero diventi un vero e proprio monumento, come un palazzo, un'architettura, un bene culturale. E come avviene questa tutela praticamente? La tutela in genere significa che quest'albero deve essere rispettato, la prima cosa deve essere rispettato, quindi bisogna creare un'era di rispetto intorno all'albero, non si possono più fare potature un po' feroci, come può succedere in alcuni alberi che vediamo anche in giro, nel senso che tutte le potature devono essere realizzate in accordo con il nostro servizio fitosanitario regionale. Ci vuole un grande rispetto, si devono fare iniziative per la valorizzazione e la divulgazione del grande valore che ha quest'albero. Un albero monumentale è importante per tanti motivi, anche per quello che rappresenta per la comunità, per la bellezza. Io mi ricordo che una delle frasi che mi ha colpito di più leggendo le tante bellissime pubblicazioni dedicate agli alberi è questa frase che dice l'albero fa più grande ciò che lo circonda, di Gaston Bachelard. E devo ammettere che è vero, se noi in una pianura o in una collina vediamo un grande albero, questo che vediamo ad esempio è a Scandiana, a Reggio Emilia, lo chiamano l'albero dei cento rami, perché è un albero grandissimo, imponente, che si raggiunge anche facilmente, è una roverella, quindi una quercia molto importante, la vedi da lontano e vedi proprio che fa sì che il paesaggio diventi più bello, caratterizza il paesaggio. Non parliamo in pianura, in alcuni casi addirittura anche le carte topografiche riportano i grandi alberi per dare indicazioni sul territorio. Quindi un albero è qualcosa che ti arricchisce, arricchisce il territorio e ti arricchisce anche per le tante tradizioni. Pensiamo ad esempio all'usanza in collina e non solo in Italia, in appennino, in montagna, di non so, subito dopo un matrimonio, un evento importante, di andare a festeggiare sotto un albero monumentale o di fare le feste sotto l'albero. Le foto anche, molto spesso. Molto spesso le foto. E quindi rispettare un albero e voler bene, proprio perché l'albero è qualcosa di vivo, l'albero è qualcosa che è vicino a un essere umano, perché nasce, vive e muore. Infatti all'inizio parlavo di tutela per 646 alberi monumentali. Nel corso degli anni 73 di questi sono morti e alcuni hanno perso la tutela perché sono caduti per fulmini, per tante vicissitudini, come si dice, della vita, come per noi esseri umani. Altri invece hanno mantenuto la tutela perché un albero, anche quando muore, continua a essere qualcosa di vivo, qualcosa di vivo per gli animali che ci vivono. Ci sono tantissimi insetti che vivono nell'albero, tantissimi animali che creano delle proprie nicchie all'interno di questi alberi monumentali. L'albero morto crea muschi, crea funghi, che sono utilissimi per gli animali, per far mangiare gli animali. Quindi quando sono in zone non pericolose per la sicurezza dell'uomo, perché un albero che muore può perdere i rami, quindi è comprensibile che in alcuni casi, quando sono in zone urbane, sia pericoloso un albero che sta morendo. Quindi bisogna in parte potare e in parte abbatterlo in alcuni casi. Però, ad esempio, quando ci troviamo in aperta campagna, in montagna, tenere un albero monumentale, che comunque ha un'architettura meravigliosa, perché sono alberi che possono raggiungere 30, 35, 40 metri, è una bellezza architettonica poterli vedere anche per la loro struttura e pensare quanti animali, quanti insetti continuano a viverci e, perché no, organizzare eventi anche per far conoscere queste cose, come quelli, ad esempio, un attimo indietro, questo è un cipresso, si trova a Villa Verucchio, ed è famosissimo, fu tutelato addirittura negli anni 30 da una legge dello Stato, come vedete puntellato da una parte con una struttura in ferro, perché ha avuto tantissimi problemi e una parte secca. Però, secondo la tradizione, questo cipresso sarebbe stato piantato da San Francesco addirittura. Quindi è un cipresso che, parliamo di otto e più secoli fa, ed ha un'importanza talmente grande per la comunità romagnola di Villa Verucchio che viene, cerchiamo in tutti i modi di far sì che continui a vivere, infatti continua a vivere, è molto grande, è molto imponente, come vedete soffre un po', come tanti altri alberi, però abbiamo cercato di tenere, lo Stato ha anche intervenuto in questo caso, come abbiamo fatto con altri alberi, e qui porto un esempio, invece in Emilia, Campagnolo Emilia, con l'Olmo. L'Olmo è un albero che era molto diffuso in Emilia Romagna, ce ne erano tantissimi, e poi negli anni, tra gli anni 30 e gli anni 50, una malattia, no, questo è una quercia, però, l'Olmo di cui stavo parlando, una malattia che si chiamava la grafiosi, ne ha abbattuti tantissimo. La grafiosi è una malattia che colpisce soprattutto gli alberi, gli olmi molto molto grandi, perché fino a una certa altezza gli olmi non ne soffrono moltissimo, e quindi ne ha abbattuti tantissimo. Ne avevamo tenuto uno, monumentale, che era un po' l'emblema degli olmi della regione, che chiamavamo l'Olma, perché anche questa è una cosa particolare, strana da ricordare, che quando un albero è molto molto grande, molto imponente, di solito viene nominato al femminile. Il pioppo diventa la pioppa, l'Olmo diventa l'Olma, e quindi quest'Olma così grande, imponente, l'Olma di Campagnolo Emilia, era una olma a cui la comunità teneva tantissimo. purtroppo è morta, improvvisamente. Quattro, tre o quattro anni fa ha iniziato a avere dei problemi, ed è morta, e quando si è pensato di togliere la tutela, la regione ha deciso di mantenerla comunque, perché è in aperta campagna, e comunque continua ad essere veramente un monumento non più verde, dal valore simbolico grande per la comunità, è comunque un valore monumentale importante, che fanno tante iniziative per le scuole, eccetera, e vogliono assolutamente valorizzarlo, tant'è vero che l'Istituto Beni Culturali dove lavoro ha pensato di realizzare qualcosa, magari insieme al comune, magari coinvolgendo artisti, vedendo di fare qualcosa per valorizzare questo monumento che è morto, sta morendo, ma che comunque rimane un bene culturale di importanza primaria per la nostra regione, e anche come esempio di albero, di olmo importantissimo e grandissimo. A proposito di eventi, entriamo un pochino nel merito per far conoscere questo immenso patrimonio a grandi e piccini. Avete in programma un evento a Castel Maggiore e lì c'è una quercia. Esatto. Siamo al parco di Villa Salina di Castel Maggiore, un parco che è di proprietà della regione Emilia-Romagna, è un parco molto bello, e in questo parco c'è una quercia strepitosa, nel senso che forse è una delle più grandi querce della nostra regione. In l'immagine vedete il parco di Villa Salina, con la villa che è di proprietà della regione Emilia-Romagna, e al suo interno c'è questa quercia, pensate, a una circonferenza, quella che vedete in questo momento, in un'immagine recente, è una quercia che ha una circonferenza di 580 centimetri per un'altezza che supera i 36 metri e una chioma che raggiunge nella sua estensione massima i 30 metri. Allora noi la vogliamo chiamare la quercia della regione Emilia-Romagna, pensando alla regione con l'R maiuscola, l'ente regione, ma anche la quercia di tutto, una delle più grandi querce di tutto il nostro territorio. E per scoprire questa quercia e tutti gli altri alberi presenti nel parco, che sono tanti e sono molto interessanti, abbiamo realizzato un'iniziativa che si intitola La Grande Quercia Racconta, per sabato 26, a chiusura della settimana dedicata all'albero, che inizia con la giornata mondiale dell'albero, che oggi si protrae per tutta la settimana, a partire dalle 9.30 ci saranno due esperti che racconteranno le storie, i segreti di questi alberi, con un esperto agronomo che è Giovanni Morelli, che racconta da tantissimo tempo ai ragazzi non solo gli alberi monumentali e la potatura degli alberi, come deve essere fatta in un modo rispettoso dell'albero, e insieme a Nicoletta Vai del nostro servizio fitosanitario che ci racconterà invece la vita dei tanti insetti che vivono all'interno dell'albero. E questo lo facciamo principalmente per le scuole. Abbiamo coinvolto l'Istituto di Agraria, quindi ragazzi che stanno adesso studiando ad Agraria qui a Bologna, ma non solo è aperta la cittadinanza e simbolicamente regaleremo anche una pianta, che tutti potranno ovviamente piantare dove meglio credono, e un volume che ti ho portato, Giada, che è Verde Maestà, che racconta... Ecco qua, perché ci sono tante pubblicazioni molto interessanti, tra un attimo andremo a parlarne. Verde Maestà ci racconta... Verde Maestà racconta l'altro aspetto, cioè non solo l'aspetto naturalistico e botanico, ma l'aspetto simbolico, l'aspetto legato al mito, ai tanti miti legati agli alberi. La mitologia classica è piena di storie meravigliose, di divinità che si trasforma, di ninfe, di divinità che si trasformano in alberi. La quercia, ad esempio, che è tanto presente nella nostra regione, è un albero sacro da sempre. Pensiamo ai druidi, ai celti, la quercia come simbolo di forza, ma anche più recente. Pensate alle tradizioni legate, ad esempio, alla rivoluzione francese, l'albero della libertà, che troviamo in tante zone della Francia. Alberi simbolici ce ne sono un po' dappertutto, fino a ricordare a questi alberi che hanno una valenza sacra, di cui ho parlato poc'anzi. E quindi indagare tutti questi aspetti legati alla simbologia, alle tradizioni, è molto interessante. Qui abbiamo un capitolo dedicato a questo aspetto. È l'albero nel dialetto. Nei dialetti dall'Emilia alla Romagna. C'è uno studioso che si chiama Gianpaolo Borghi, che ci ha regalato un saggio, che parla proprio di questi aspetti, legati alle tradizioni, soprattutto contadine, quindi legati agli alberi da frutto, ma non solo, durante i vari periodi dell'anno. E anche all'interessante aspetto di cui parlavo prima, così ancestrale, per cui gli alberi molto grandi, molto spesso nel dialetto, si trasformano da maschili e diventano femminili. Ad esempio, il pioppo, che è molto diffuso nella nostra regione, molto spesso nel dialetto bolognese, ma non solo, diventa la fioppa, la pioppa, la pioppa. E così tanti altri alberi. E quindi abbiamo indagato un po' questi aspetti. Ma sull'albero si può veramente parlare per ore, perché l'albero è un essere vivente. Alcuni dicono di sentirne anche... Ci sono anche tutte queste tendenze che adesso si stanno sviluppando, per cui lo sentono come qualcosa di vivente che ci dà solo toccandola. Ad esempio, abbracciare gli alberi è una sensazione molto, molto forte. Quando tu abbracci un albero monumentale sembra, sarà suggestione, probabilmente, eccetera, che ti stia trasmettendo qualcosa. Quindi è sicuramente un'esperienza da provare. E abbiamo nel corso del tempo anche coinvolto artisti con concorsi. Ad esempio, qualche anno fa abbiamo coinvolto gli studenti dell'Accademia di Belle Arti e anche artisti in un concorso d'arte pubblica insieme alla Fondazione Villa Ghigia, l'Accademia di Belle Arti, il Comune di Bologna, che si chiamava il Monumento Metteradici. Abbiamo chiesto, prendendo in esame alcuni alberi, alcuni grandi alberi di Bologna, tra cui un albero che, chiedi Bologna, lo vede continuamente, che è quello di Piazza Malpighi, questo grande platano, oppure il bagolaro di Piazza Carducci, vicino al Monumento a Giosuè Carducci, e il bellissimo boschetto di querce che troviamo ai Giardini Margherita ed altri alberi, tra cui anche una bellissima quercia, una farnia che è accanto alla Granarolo, quindi nella primissima periferia di Bologna, una farnia meravigliosa e tenuta benissimo. E abbiamo chiesto ad alcuni artisti di pensare qualcosa che potesse valorizzare l'albero. La vincitrice del concorso, che è un'artista che si chiama Rita Correddu, ha ben pensato di portare gli alberi in biblioteca. Noi come istituto ci occupiamo di musei, di biblioteche, quindi questa cosa ci è piaciuta moltissimo. Che cosa ha fatto? Utilizzando degli strumenti nuovi come i colleghi ed altri colleghi artisti, ha cercato di portare l'albero in biblioteca in questo modo. Ha passato una giornata con l'albero, ha registrato i suoni dell'albero, quindi non so, prendiamo un esempio, il grandissimo platano di Piazza Malpighi, l'ha ascoltato tutto il giorno, quello che sente l'albero, quindi il rumore degli autobus, della croce rossa, delle macchine, della gente che passa. Con questi mezzi che voi vedete, con dei microfoni, ha registrato i rumori dell'albero, ha realizzato un MP3 e questo MP3, una cuffia, come vedete, ha portato questo suono, un estratto di questi suoni, un concentrato, in biblioteca. E in biblioteca, con una grande immagine, con una grande immagine a tenda, che abbiamo realizzato, sia in Sala Borsa, lo potete trovare, una delle tende è questa, sia nella nostra biblioteca Guglielmin Istituto, alla Biblioteca delle Donne, alla Biblioteca Cabral, noi ci possiamo sedere, davanti alla grande quercia, ad esempio, di Via del Bordone, che abbiamo portato in centro a Bologna, questa è alla Biblioteca di Amilcar Cabral, e sentire il rumore dell'albero, vivere questa esperienza al chiuso, e vedere che cosa prova l'albero, diventare noi alberi, come... Imedesimarci un po'. Imedesimarci un po', e sentire quello che sente l'albero, e vivere come se noi fossimo alberi. Invece, una ragazza, c'era una sezione dedicata agli allievi dell'Accademia di Belle Arti, un'allieva dell'Accademia di Belle Arti, ha studiato tutte le tradizioni intorno alla quercia di cui parlavo, quella di Via del Bordone, quella vicino allo stabilimento del Granarolo, è una quercia bellissima, tenuta benissimo dai proprietari, e dato che lì vicino c'era una latteria, c'era una scuola, lei è andata a recuperare le tradizioni orali dagli anziani, a recuperare le vecchie fotografie, e chi va... in questo bed and... c'è accanto una struttura, i proprietari hanno realizzato un bed and breakfast, e ospitano, e hanno ospitato questa specie di installazione, per cui tu, ovviamente gratuitamente, ti puoi appoggiare, loro ti danno dei cucini, e puoi vedere le foto relative a tutte le storie nel corso di questi cento anni, che sono state vissute accanto, sotto, intorno all'albero, con i bambini, i ragazzini, la gente che passava, i ricordi degli anziani, chi andava a raccogliere le ghiande per i maiali, perché un tempo, molto spesso, vicino ai grandi casolari, noi vediamo queste grandi querce, diciamo, ma che strano, la querce era fondamentale, perché dava da mangiare agli animali, quindi anche questi aspetti, che adesso facciamo un po' fatica, perché non esistono più, però c'erano tantissimi gelsi in Emilia Romagna, ma il gesso era fondamentale per il bacco da seta, la lavorazione della seta, è una caratteristica di Bologna, e non solo, quindi vediamo tantissimi gelsi in campagna, molto spesso si accompagnavano, venivano maritati, come si diceva, cioè venivano, erano il sostegno delle viti, quindi molto spesso vediamo questi filari di gelsi accompagnati alle viti, perché molto spesso nella tradizione emiliana e non solo, erano di accompagnamento alle viti nelle nostre campagne, colline, e quindi è uno dei tanti aspetti da scoprire, per scoprire la storia della nostra regione, del nostro territorio e del paesaggio, che è una storia ovviamente meravigliosa e che non può non appassionare. Abbiamo un minuto per chiudere, per salutarci, raccontando di queste guide a una nuova, come dire, idea, che è il tree watching, quindi chi fosse curioso di andare alla scoperta degli alberi nella nostra regione può avere una piccola indicazione da queste vostre guide. Queste sono guide proprio al tree watching, cioè guardare gli alberi, come si fa il bird watching. Noi abbiamo pensato, e ovviamente la parola non l'abbiamo inventata noi, però di portare anche in Emilia Romagna al tree watching realizzando delle guide che sono pensate per i nostri parchi e giardini pubblici in tutta l'Emilia Romagna in cui ci focalizziamo sui grandi alberi presenti. Queste guide che si chiamano monumenti verdi nei giardini dell'Emilia Romagna li potete scaricare gratuitamente dal nostro sito. Il nostro sito è ibc, basta andare su qualsiasi motore di ricerca e cercarle molto facile, in genere siamo i primi o i secondi in ordine di apparizione e se voi andate nelle pubblicazioni li potete scaricare gratuitamente e farvi realizzare il vostro percorso all'interno dei parchi pubblici a Bologna ai giardini Margherita alla Montagnola ma non solo in tutta l'Emilia Romagna da Piacenza a Rimini e andare alla ricerca di questi monumenti verdi e magari di scoprire anche come vengono potati. Vedete ad esempio un esempio di climbers di tree climbers che è una professione che sta andando adesso alla grandissima perché è un nuovo modo di potare gli alberi rispettoso della natura e quindi magari in occasione di queste visite di tree watching potrete vedere alcuni esperti potatori all'opera ed è anche questa un'esperienza perché sono veramente delle persone con abilità particolari che rispettano la natura e il verde in un modo particolare. Quindi vi invito a scaricare tutte le nostre pubblicazioni di cui vi ho parlato gratuitamente dal nostro sito e buona festa del verde a tutti. Ecco infatti ci salutiamo proprio così perché abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione quest'oggi ti ringraziamo molto grazie Carlo Tovoli dell'Istituto Beni Culturali della Regione Emilia Romagna grazie mille e grazie a tutti. E buona festa degli alberi quindi a tutti quanti grazie per averci seguito la linea torna alla regia. grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.